Siamo con Franco Davanzo nel suo comitato elettorale di Leporano. Franco Davanzo è il presidente del consiglio comunale di Leporano ma in questa sede lo stiamo intervistando come candidato al consiglio regionale pugliese con Popolari per Emiliano. Intanto Davanzo come sta andando questa campagna elettorale? La vedo molto dinamico anche affaticato perché chiaramente percorrere l'intero territorio, avere contatti continui, incontri con i cittadini è abbastanza stanca. Insomma ecco fisicamente prova i candidati. Certo ci vuole una forza fisica incredibile, mette a dura prova qualunque candidato. Sono convinto che tutti noi i candidati sul territorio siamo tutti abbastanza presi e stanchi. Io non mi aspettavo una situazione del genere perché fino adesso questa è la mia prima esperienza come candidatura alle regionali. Io ho avuto esperienze per quanto riguarda quelle amministrative che sono localizzate nel territorio, sul circoscritto, sul comune e per quanto riguarda invece queste qua le elezioni regionali tu ti devi spostare da un paese all'altro. Ad esempio io oggi sono arrivato un attimo alla terza, poi sono sceso a Castellaneta Marina per poi arrivare a Mottola e incontrarmi all'una e mezza a San Giorgio. Quindi ho pranzato a Taranto Vecchio. Il giro della provincia di Taranto. Mi incuriosisce il fatto che lei ha fatto affiggere tre diversi manifesti. Analizziamoli. C'è il primo, questo qui, dove lei, sempre il suo slogan, Uniti si vince, mostra la Costituzione della Repubblica italiana. Per me questo è un manifesto molto importante perché io rappresento e presento la Costituzione con la mano sinistra e la mano destra sul cuore. Io la Costituzione la rispetto e la faccio rispettare, ma in primis sono il primo a rispettarla perché credo che l'esempio lo debba dare io. Ecco, spostiamoci all'alto manifesto, ci possiamo avvicinare e abbiamo, la vediamo così, con una mano protesa, cosa vuol rappresentare. Io sono questo, sono una persona semplice, una persona che si mette a disposizione di tutto il territorio, sempre. Se volesse dare una mano, ecco. Se volesse dare una mano magari a chi la chiede e sono anche così al Comune, sono una persona molto disponibile. Io credo che fare politico abbia bisogno di una caratteristica, prima di tutta la competenza, la conoscenza, ma poi devi conoscere il territorio. Se no tu le risposte alle persone non le dai. Io credo che il mio programma sia quello che mi chiedono le persone. Io in virtù delle problematiche locali che mi vengono riferite, riferisco. Spostiamoci al terzo e ultimo manifesto e vediamo un indice puntato. No, quello è il dito che è verso il popolo, verso i tarantini. Dico io ci sono, però aspetta a voi scegliere un vostro rappresentante alla regione. Se volete scegliere me, io vi garantisco la legalità, vi garantisco la sicurezza, ma soprattutto, come dicevo prima, la competenza. Uniti si vince e grazie di tutto.